Previsioni meteo per domenica 17 febbraio. A nord alta pressione, bel tempo su tutte le regioni, salvo locali banchi di nebbia, nottetempo su Val Padana e Costa Adriatica. Al centro condizioni anticicloniche e garanzia di una fase stabile, generalmente soleggiata su Sardegna e regioni peninsulari. Al sud un rinforzo più deciso dell'alta pressione favorirà una giornata generalmente soleggiata su tutte le regioni. Venti deboli di direzione variabile, mari da mossi a molto mossi, temperature stazionarie o in generale aumento.